Abbiamo fatto nell'arco della stagione alcune partite dove abbiamo espresso un gioco importante e non abbiamo portato punti a casa. Adesso, magari sabato, abbiamo fatto una prestazione non eccellente, però abbiamo portato tre punti a casa e questo è fondamentale. Sì, siamo convinti che possiamo fare una buona gara. E domenica dobbiamo portare a casa tre punti perché ci manca soprattutto la vittoria in casa e sarebbe una vittoria importante per noi, soprattutto per il morale. Al Fageme, poi Ceravolo ogni tanto sento, Bernardi, Miglietta, ogni tanto ci sentiamo, ci messaggiamo. Ceravolo, ma lei chi è il più temibile? Ceravolo a me piace moltissimo, è veramente un rompiscatole in attacco, pure non è a buone qualità e dobbiamo stare attento, lì davanti sono bravi. Sono tranquillo e devo aspettare il mio momento. Mascara è un bravissimo ragazzo, è un ottimo giocatore, non lo scopro io, quindi devo solo attendere il mio momento. Hanno acquistato dei giocatori importanti, come Avenatti, anche se ancora deve dimostrare il suo valore, perché tutti parlano bene, però quest'anno ancora non ha dimostrato il suo valore. Poi anche la squadra è stata allestita molto bene, si trova in una posizione secondo me che non gli compete.